Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Flotsam, questa è una versione anticipata. Il gioco è uscito il 26 di settembre. Ho avuto la fortuna di averlo qualche giorno prima e di poterlo provare un po'. È un gioco che ricorda come stile di gioco Frostpunk, nel senso che costruite, sfruttate diciamo la raccolta delle risorse, la costruzione di una base, insomma di una sorta di città ma ambientato in un mare, in un oceano estremamente inquinato. Il gioco è eccezionalmente in italiano, non me l'aspettavo, iniziamo una nuova partita così andiamo a vedere un attimino com'è. Indie Water lo chiamiamo. E allora mettiamo pausa, prima cosa. Noi abbiamo questo piccolo faretto che è il nostro quartiere generale, il nostro centro della città o meglio, c'è un mare estremamente inquinato, abbiamo già sott'occhio un centro, un punto di interesse che è questo, dove abbiamo una nave, dove alcuni nauferi hanno tentato di costruire una città su quell'isola, che ti vedi, con tutte quelle alluvioni pieni di spazzature, una barca bella finita sugli scogli. Forse possiamo utilizzare uno degli alberi. Allora, sì, in realtà potremmo, ma torniamo sul centro città che si accede da qui con il tasto C. Abbiamo la possibilità di ruotare con il tasto centrale del mouse visuale e possiamo andare a recuperare delle risorse. Allora, inizio a spiegarvi un attimino l'interfaccia. Qua è la guida di sopravvivenza con le istruzioni su come funziona, sulle varie risorse che possiamo raccogliere, principalmente, adesso poi vi faccio vedere, qua abbiamo la modalità, la rotazione visuale, la visuale fissa diciamo sul centro della città, le impostazioni, qua una sorta di tutorial, la velocità, possiamo velocizzare e allentare il tempo, qua abbiamo le riserve alimentari che alimentano i cittadini della nostra città, abbiamo l'acqua, la capacità, la riserva d'acqua potabile, il legno bagnato, il legno asciutto, abbiamo i rifiuti di plastica e i rotami metallici. Possiamo andare a recuperare queste risorse qui. Ovviamente il legno è per forza tutto bagnato, però abbiamo la possibilità di farlo asciugare. La grafica è in cell shading, un po' come Zelda The Wind Waker, io lo porto sempre come esempio questo. Abbiamo la possibilità di vedere le imbarcazioni, i punti di ormeggio in città, quindi quanti punti di ormeggio e quante navi abbiamo, barche più che altro. Qua invece abbiamo la capienza immobiliare e il numero di persone, quindi in pratica adesso abbiamo tre persone ma zero di capacità immobiliare, non abbiamo ancora stanze, non abbiamo niente. Qua sotto abbiamo la possibilità di posizionare delle boe, abbiamo poi altre cose che si andranno a sbloccare, quali pesca e altro. La possibilità di costruire, la possibilità di ricercare, intanto vedete qua, quindi possiamo andare a spendere quando avremo la possibilità di accumulare dei punti di ricerca, di ricercare nuove tecnologie, la mappa, che è una sorta di livello, insomma quando poi noi completeremo Indie Water, potremo andare a spostarci e andare in altre zone dove ci sono altre caratteristiche ambientali, come ad esempio qua abbiamo l'acqua dolce, abbiamo il petrolio, abbiamo una città abbandonata, mentre qui invece non abbiamo nulla, a livello prossimo abbiamo una città abbandonata e andando via poi la mappa va avanti ma non so come effettivamente andare a vedere quanto sia estesa, quindi va bene. Qua invece abbiamo l'inventario, l'inventario è un tot di, allora comprende sia l'acqua che tutto il resto, quindi abbiamo del cibo, abbiamo dell'acqua, l'acqua ha un inventario a sé perché c'è appunto questa bottiglia che ci contiene l'acqua potabile e qua abbiamo invece l'inventario degli oggetti, quindi legname e cose varie. La prima cosa che andiamo a fare, vabbè qua tutte le priorità dei naufraghi, vedete tutto quello che possono fare e non possono fare, quindi recupero, esplorazione, incarichi di costruzione, produzione, raccolta acqua, desalinizzazione, incarichi di cucina, incarichi di trasporto, la pesca e il recupero delle cose intorno alle boe. Perché le cose intorno alle boe? Perché noi possiamo andare a piazzare questo e ci dice cosa possiamo recuperare. Come prima cosa, vedete qua abbiamo principalmente del legname bagnato e della plastica, qua abbiamo principalmente legname e qualcosa di plastica, io direi di iniziare qui così prendiamo anche un po' di legname e anche un pelo di plastica, preferisco prendere, ok. Vedete, piazzandolo lì andiamo ad accelerare il tempo così l'omino nuota, molto beato, o più o meno, va a prendere il legname e lo porta qui. Qui una volta recuperato il legname avremo modo, adesso velocizzo, perché se no non arriviamo più a una, lui recupera il materiale e lo porta e poi noi procederemo alla costruzione. Abbiamo un minimo di autonomia all'inizio della partita, perché abbiamo un po' di cibo e un d'acqua, quindi dobbiamo beccare, imbroccare diciamo l'inizio giusto, cioè in pratica garantirci una produzione di risorse e in primis io direi di pensare alla costruzione, vedete che adesso costruzione che si divide in cinque categorie, possiamo andare a costruire dei ponti, dei piazzali, delle case, oppure dei laboratori, i laboratori sono i primi che faremo, lo stendino, quindi in genere le stendine ne faccio due, uno per asciugare il pesce e essiccarlo quindi, e uno per asciugare il legname. E qua abbiamo invece il capanno del falegname per ricavare le corde ad esempio, che è una risorsa che ci interessa. Non possiamo ancora andare a costruire nulla perché ci servono dei pezzi di plastica, quindi ancora ce ne mancano due, speriamo che ce li portino presto. Ovviamente bisogna ottimizzare perché l'oceano non è fantascienza, non è una fiaba, è così veramente in alcune parti del mondo quindi. Allora vedete adesso andiamo a costruire quello per essiccare, asciugare la legna, i due rimasti perché il terzo sta nuotando come un pazzo, i due rimasti iniziano a scavare, questa è la velocità normale con il tempo di creazione e poi possiamo andare volendo se siamo proprio alla canna del gas, o con l'acqua alla gola meglio, andare a demolire. Allora in questo caso non sta facendo nulla, quindi andiamo qui e possiamo dirgli essicca, cioè asciuga la legna, essicca il pesce, produci questo. E i cittadini che non hanno limitazioni in quanto a lavori effettuabili iniziano e appendono la legna che stiamo iniziando ad accumulare. Abbiamo già riempito un po' i magazzini, vedete abbiamo già accumulato un po' di roba. E una volta che abbiamo prodotto quello possiamo iniziare ad andare a pensare a costruire questo che è il... allora la boa non c'è più. Allora ci serve per la produzione dell'acqua, la dessalinizzazione dell'acqua, ci serve sia legname che plastica, quindi direi che prendiamo una boa e vedete che compare questo cerchio intorno, questo qui che sto ruotando, più quello fisso, quello fisso è l'area in cui possiamo agire, qua sembra esserci anche del pesce, quindi potremmo andare a pescare dopo, io direi di recuperare un po' di plastica qui, acceleriamo un po' il tempo in modo che recuperiamo altre cose, poi scaveremo, raccoglieremo anche qui, c'è una balena qui che affiora, indicatore di boa, possiamo ridurre, ah ok ok, quello che possiamo raccogliere, sì questo ok, possiamo dire a più persone di andare a raccogliere, quindi ne mandiamo due adesso, così acceleriamo un pochino i tempi, e una volta che abbiamo finito di raccogliere quello che ci serve, non manca molto, credo si manca più che altro legname, il legname ovviamente si parla di legname senza la gocciolina, quindi di legname asciutto, quindi il legname viene messo dal poveraccio, è rimasto qui sul centro città, viene messo a stendere, spero, infatti vedete che lo sta mettendo adesso, si può zoomare, ed è figo, interessante, come grafica, l'ho visto questo gioco su Steam per diversi mesi, infatti l'avevo messo in vista, poi c'è stato modo di averlo, la boa è scomparsa, perché abbiamo raccolto tutto quello che dovevamo raccogliere, ci manca ancora legname asciutto, ma io credo che legname lo abbiamo, perché vedete che ne abbiamo ben 18 bagnato, quindi io direi che prendiamo un'altra boa e andiamo a raccogliere un po' di plastica, che ce n'è un bel po' qua, ci mandiamo una sola persona questa volta, così gli altri due restano lì a far essiccare il legname, così a breve potremo fare, ecco lo possiamo già fare, lo piazziamo qui, mettevo qua, e qua ci occuperemo di far bollire l'acqua del mare, poi non so come recuperare questo vapore, far condensa, riottenere il liquido e quindi lasciare il sale e buttarlo, insomma, quindi rendere l'acqua bevibile. Altra cosa che si può fare, cosa che facciamo subito, è un ponte, così vi faccio vedere intanto come funziona, vedete che possiamo piazzarlo dove vogliamo, cioè più o meno dove vogliamo, perché dobbiamo piazzarlo, mannaggia, possiamo piazzarlo qui, vedete lo allunghiamo dove vogliamo, ok, così, e iniziamo a mettere le fondamenta del nostro... Ah, ok, qua devo dirgli i produci, a ripetizione, acqua, vediamo, ne abbiamo 22, vediamo se questa poi va a crescere. Intanto i nostri amici stanno costruendo la nostra baraccopoli sul mare, intanto stiamo recuperando un botto di plastica, ma non avremo spazio ancora per molto, il gioco poi ce lo ricorda, abbiamo bisogno di un magazzino, un piazzale piccolo, conserva detriti e spazzature, vedete lo mettiamo qui, e poi appena possiamo andremo, appena recuperiamo l'altra plastica, ma la plastica è raccolta e consegnata, infatti vedete che sta già salendo, costruiremo una piccola casetta in modo da aumentare lo spazio abitabile, lo mettiamo qua davanti. Bene, stiamo facendo quello che dobbiamo fare, non abbiamo ancora modo di andare a pescare al momento, però mi servirà un capanno del faligname quanto prima per poter fare poi la corda. Vedete che poi qua abbiamo altre cose, tra cui l'ormeggio, poi possiamo fare la barca da esplorazione, la barca da pesca, ed è un problema quello che dobbiamo risolvere, quello del cibo, quindi qua io non capisco se sta producendo o meno, perché vedete che no, non sta producendo perché serve anche del legname, che ovviamente dobbiamo bruciare, vedete qua manca carburante, io voglio capire importazione, coda, carburante, legna, eh sì, sì, non abbiamo modo di cambiarlo, quindi dobbiamo dargli la legna, ma io direi che sì, speriamo che qualcuno ci vada presto a farlo, perché, ok abbiamo uno spazio abitativo, una casa per i tuoi narferi dove possono riposarsi, va bene. A questo punto io aspetterei, ok, facciamo il capanno del faligname, riusciamo a farlo qui, sì, facciamo il capanno del faligname, intanto vedete che qua stiamo iniziando a usare il nostro nuovo inventario che è passato da 60 a 120, credo fosse 60 prima, no era forse 80 o 100, non mi ricordo, mannaggia, non mi ricordo quant'era, comunque, non capisco adesso perché non stanno portando legname, ma vorrei iniziare a farli fare, chiedita produttive, ok, ricetta selezionata, spazi produttivi, vedete carburante, alcuni laboratori hanno bisogno di carburante, dopo aver scelto il tipo di carburante i narferi andranno a riempire, ok, dobbiamo scegliere quello, allora, ok, ho capito, legna, ho detto, va bene, legname, ma non abbiamo legname, eh no, non abbiamo legname, vabbè, allora facciamo così, mettiamo adesso, abbiamo un bel po' di plastica, 32, non abbiamo ancora rotami metallici, quindi io direi di piazzare un'altra boi, metterla qui, così recuperiamo un po' di legna, acqua, e poi sarebbe anche il caso di andare a produrre acqua, intanto abbiamo fatto questo, non ha una produzione, e andiamo a dirgli di produrre, ah ok, perfetto, sì, dobbiamo produrla da qui, ok, produciamo legname, perché non possiamo infilare il tronco lì, mettiamo un po' di legname, aggiungo uno, e poi aggiungo un paio di corde, così iniziamo a recuperare anche le corde, che le corde sono molto utili per la produzione di cose un po' più avanzate, come ad esempio il punto di ormeggio, che faremo magari da quest'altra parte, intanto qua, stiamo producendo, ok, sì, ha iniziato la produzione anche di acqua adesso, stiamo andando accelerati, perché voglio farvi vedere un po' tutto, poi ce lo potremo in realtà giocare anche molto più semplice, 14 d'acqua, vediamo se adesso aumenta, abbiamo sempre il legname che ci manca, quindi dobbiamo tenere la produzione attiva di legname, è però un rischio, abbiamo prodotto uno d'acqua, bisognerà amministrare bene, voglio capire poi come si aumenta la popolazione, ma quello lo faremo in seguito, possiamo farci finalmente il punto di ormeggio, il punto di ormeggio lo mettiamo qui, qua stanno ancora raccogliendo, io direi che intanto, dato che qua non lavoro nessuno, io produco un po' di legna, due, di legname, così almeno è anche un paio di corde, così iniziamo la produzione, ok, abbiamo fatto il punto di ormeggio, quindi il punto di ormeggio è questo, cantiere navale, porto le piccole imbarcazioni, ok, poi possiamo produrre questo, ci manca del legname, possiamo fare una barca d'esplorazione, la mettiamo lì, e poi faremo anche quella da pesca, perché il pesce non sarà illimitato, quindi avremo necessità, io direi che adesso facciamo la barca d'esplorazione e andiamo a vedere che cosa c'è qua, la barca veda sugli scogli, perché ovviamente usando il nuoto, la boa quella dove va a nuotare il tizio, non possiamo allontanarci più di tanto, quindi attendiamo che la nave venga finita, che a breve avrà finito, qua intanto non produce niente, abbiamo intanto l'acqua la stiamo producendo, poco ma la stiamo producendo, abbiamo fatto la nave, a questo punto potremmo anche imbarcazione e esplorazione, vediamo un po', si è sbloccato questo, possiamo andare a esplorare, possiamo andare oltre, recupera, ok, recuperiamo un albero, recuperiamo della corda e dei rottami metallici, bene, vediamo se fa, si sta andando, in quanti stanno andando? Uno, uno solo, ok, sta andando e sta esplorando quella zona lì, perfetto, fantastico, dobbiamo fare adesso una barca, non possiamo farla perché non avremo spazio, quindi io direi che torniamo qua e facciamo un altro punto di romeggio che piazziamo qui, molto bene, molto bravi e l'acqua non è che vada molto bene, cioè il legname manca a dire la verità, quindi andiamo a ripiazzare un altro punto dove diciamo ai nostri amici di recuperare principalmente, io direi, ok, recupera solo legname, vedete che possiamo ingrandire e diminuire la zona, ok, perché mi serve assolutamente la produzione, facciamo una produzione continua di legna, facciamo un po' di legna perché ne abbiamo bisogno, allora abbiamo fatto il secondo punto di produzione, quindi possiamo fare il capanno, mannaggia, dobbiamo stoppare sta roba però perché... stop, 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 ho capito come si fa a fermare la produzione, ok, va bene, va bene, va bene, aspettiamo che facciamo di fare un po' di... ah no, lo possiamo fare, barca da pesca e andiamo anche a fare un po' di cibo, perché se dire la verità l'acqua ci manca abbastanza, che poi qualcuno dovrebbe anche portarla di là, però... vabbè, eh... sì, a breve moriremo, ma ovviamente il mio classico gameplay fallimentare, che punta per lo più ad altro, infatti qua vedete adesso, posizione una borda pesca, possiamo, come anche per il recupero, mandare la gente qua, dove c'è questa... questo... punto di pesca qui, a breve finiranno, che hanno finito la barca, quindi li mandiamo a pescare qui. L'altro tizio è tornato, dovrebbe averci portato un po' di roba, abbiamo un albero anche, che non so cosa serve, sarà materiale da crafting, presumo, infatti abbiamo le vele, consente di muoversi in città, non so che cavolo voglio... ah, ok, la mettiamo qui e vediamo che cosa serve quella vela, magari possiamo spostare la nostra città nella nuova zona, vediamo, intanto qua stanno ancora recuperando materiali, no, dovremmo aver finito il legname, credo, no, il legname ce n'è ancora, quindi l'acqua è aumentata, ok, stiamo sopravvivendo giusto così per grazia divina, intanto qua nessuno va a pescare, non so perché, ok, no, sta andando adesso, fantastico, abbiamo costruito anche la vela, la vela, apri la mappa, ok, consente di spostarci nella zona successiva, però io non lo farei ancora, non spostare la mia città ancora, perché ho bisogno di fare un po' di cibo, sì, poi a dire la verità bisognerà vedere come si espande il gioco e per farlo dobbiamo, vediamo intanto quanto pesce torna, perché siamo a 20, adesso depositeranno tutto nell'inventario, vedete che sta caricando nella botte e adesso va a depositare qua il faro, niente pesce, ah no, devono farlo essiccare, mannaggia, è vero, serve l'essiccatorio che mettiamo qui, poi espanderemo questo ponte qui, insomma, faremo delle altre cose, adesso con questo essiccatorio possiamo rendere il pesce mangiabile, quindi lo facciamo seccare e iniziamo la produzione di pesce, infatti nell'inventario dovremo avere 20 pesci, sì, ah no, abbiamo cibo in scatola, ci stiamo basando su quello perché il pesce non è ancora commestibile e infatti lo mettiamo qua, facciamo pesce e produci solo pesce, infatti lo stanno mettendo a seccare. Bene, fatto questo, che sono le basi, diciamo, per una sopravvivenza, almeno iniziale, intanto qua producete ancora linea, da Harder, iniziamo a magari spostarci, vediamo che cosa succede spostandoci perché non abbiamo raccolto altro, da qua non c'è più nulla da recuperare, quindi direi che abbiamo completato anche la missione che ci aveva dato all'inizio, quindi possiamo cliccare sulla vela, aprire la mappa e spostarci qui. Spostiamo la nostra città, la nostra colonia di Indie Water e siamo in una nuova zona dove apparentemente c'è della gente, possiamo salvare della gente e quindi avere dei coloni in più, possiamo andare qui, esploriamo le rovine, magari troviamo un'antica tecnologia da usare per la nostra ricerca. Ah ok, allora non ci sarà un edificio per la ricerca, ma semplicemente accumuleremo ricerca facendo dei viaggi, allora andiamo, andiamo a vedere, accogli, andiamo, mandiamo un tizio e vediamo che cosa scopre. Intanto noi stiamo producendo legna, anzi della verità non lo stiamo facendo e tra l'altro siamo anche in una zona abbastanza sfigata perché non abbiamo modo di nuotare da nessuna parte perché non c'è nulla, assolutamente nulla da poter scavare, da poter scavare, scavengiare insomma, accogliere insomma, so che a voi non piace il termine scavengiare e non esiste nemmeno, quindi va bene, allora, ma qua possiamo muoverci ancora, apri la mappa, possiamo viaggiare avanti ancora, il viaggio necessita di, eh possiamo spostarci ancora, ah no la vela mi sa che non è rotta, ma vediamo. Abbiamo raccolto qualcosa, è tornato il tizio, direi che la ricerca, abbiamo ottenuto tre punti di ricerca, adesso mettiamo in pausa e vediamo, si può ricercare un nuovo tipo di piazzale, una casa, vedete un po' che è molto interessante sta cosa perché possiamo andare a fare laboratori per la raccolta di rotami metallici, riciclo della plastica, per l'acqua e il cibo, insomma possiamo fare diverse cose, il barbecue, la capanna del pescatore, presumo sia, si infatti vedetela lì, eh l'unico dubbio che ho su questo gioco è che così, visto così, non ha tantissimo come ricerca, eh bisogna vedere perché adesso questa è una versione per il rilascio, magari poi farò un giro ancora dopo il rilascio e vedere che cosa, perché non è early access questo, abbastanza 0.1.4, quindi bisogna vedere cosa rilasceranno quando esce e voi vedrete questo video dopo già l'uscita del gioco, quindi magari mi direte cosa ne pensate, poi io entro in gioco, controllo, faccio una partitina ancora e vedo che cosa è cambiato, cosa hanno aggiunto, sicuramente il gioco è curioso, piuttosto originale, le meccaniche un po' alla, appunto, mi ricorda Frostpunk per il fatto della costruzione di edifici, poi in realtà con Frostpunk ha in comune, più che altro è in comune più con magari banished, banished, sto qua non so cosa stia facendo, sta andando avanti e indietro, sta recuperando un po' di roba, ok sta raccogliendo anche legna da questo posto, quindi riusciamo ad andare avanti, a sopravvivere, producendo magari un po' d'acqua ancora, però non sta andando proprio molto bene, perché comunque il pesce essiccato lo abbiamo, è in produzione, però abbiamo tutte e due le navi fuori, uno sta recuperando, l'altro sta pescando, si sta portando legna questa, vedete che l'esplorazione ci porterà, ma il fatto di prendere comunque nuova gente è un rischio perché dovremmo sfamane di più, la barca d'esplorazione la mando qui che mi recupera legna, posso? ok, lo mando lì, quindi non usiamo il nuoto, ma usiamo la barca d'esplorazione, va bene, non si è espanso molto, cioè non si è espanso niente, non abbiamo ancora punti, 6 punti di ricerca abbiamo adesso, quindi possiamo andare a fare, contenitore per l'acqua piccola, conserva piccole quantità d'acqua, no mi servirebbe contenitore per l'acqua, qua abbiamo dissalatore, genera lentamente piccole quantità d'acqua, a 10 punti, però possiamo farlo, a 15 crea acqua dolce, è una roba un po' più complicata, qua, ok, ok, chiosca ambulante, no, ok, si stanno aggiungendo cose, man mano, vabbè, l'acqua inizia ad essere scarsa, allora, giusto per curiosità, voglio vedere se si può già viaggiare, ma non credo, ma invece si, ci possiamo spostare come vogliamo, ah ok, ovviamente qua adesso ci fa capire che ci servirà del petrolio per muoverci, quindi avremo bisogno di un motore, il viaggio necessita di, quindi possiamo anche tornare indietro, no, non possiamo tornare indietro assolutamente, non si può tornare indietro, però abbiamo magari una zona un po' più bella da vedere, insomma, una capanna abbandonata, altre cose, va bene ragazzi, questo era Flotsam, fatemi sapere che cosa, intanto io salvo, perché comunque è andata discretamente bene, anche se siamo destinati a morte certa, allora, questo era, come dicevo, era Flotsam, fatemi sapere, il gioco in italiano, non so direva ancora il costo, perché il gioco non è ancora uscito, nel momento in cui sto registrando, lo faccio per questione di tempo, poi col lavoro sarebbe stato dura a registrarlo, proprio dopo l'uscita, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, come sempre già detto qua sotto nei commenti, e alla prossima ragazzi, ciao ciao!